Tornano le proteste nelle banlieue di Parigi. Per la terza notte ci sono stati scontri tra giovani e polizia a Olnè e Subois dopo le violenze di quattro agenti ripresi dalle telecamere ai danni di un 22enne di colore fermato durante un controllo giovedì scorso. Uno degli agenti è accusato di violenza sessuale. Il primo ministro Casnoeva ha chiesto fermezza contro i responsabili. Ieri intanto nel quartiere si è svolta una marcia di sostegno al giovane di protesta contro la polizia. Proprio l'immigrazione sarà uno dei temi al centro della campagna elettorale già a Rovente in vista delle elezioni presidenziali ad aprile. In testa ai sondaggi Marine Le Pen, 49enne figlia dello storico leader dell'estrema destra francese, la candidata all'eliseo del Front National che pare voler superare a destra Donald Trump ha già suoriscaldato gli animi dei suoi sostenitori, garantendo che se verrà eletta la Francia uscirà dalla Nato e che preparerà un referendum per dire Dio all'euro. A sfidarla al ballottaggio dopo il primo turno del 23 aprile potrebbe esserci Emmanuel Macron, giovanissimo ex ministro dell'economia, è il leader del movimento Ammarsh, critico dei partiti tradizionali e convinto europeista. Quasi sempre accompagnato dalla moglie e sua ex insegnante, ha rispinto le voci su una sua presunta omosessualità. Tentativi di screditarlo sono giunti anche da un deputato francese, Filoputin, facendo temere possibili dossier russi contro Macron. Sarebbe invece fuori dal ballottaggio, secondo i sondaggi, François Fillon, candidato della destra francese gollista, dato invece per favorito fino a pochi giorni fa, travolto dalle polemiche per aver assunto la moglie Penelope come assistente parlamentare, Fillon ha chiesto scusa annunciando una lettera ai francesi, ma continuerà la campagna elettorale.